Dalla Casa Bianca, adesso entra nel dettaglio, inizia il suo discorso alla Casa Bianca dicendo abbiamo vinto, abbiamo vinto con il voto reale, con il voto legale, tutto il resto è voto illegale e quindi non deve essere considerato, è frutto di brogli, non deve essere considerato perché non è legale noi abbiamo vinto, abbiamo vinto col voto legale, è evidente che si apre una battaglia, una battaglia sui voti per posta che Trump e il suo comitato chiedono di fermare, sui voti addirittura già conteggiati si chiede il riconteggio secondo il Washington Post ci sono 120 mila voti postali arrivati dopo il 3 novembre ma spediti prima del 3 novembre, di questi 150 mila voti 12 mila sono negli stati chiave che determineranno la scelta del Presidente, North Carolina, Pennsylvania e Nevada ci sarà una battaglia e Trump lo sta annunciando proprio sul conteggio di questi voti che possono far la differenza torniamo, torniamo da Trump a Giovanna per sentire cos'altro ecco, parla proprio del North Carolina e di